Ciao, io mi chiamo Davide Lifani e vengo da Verona, qua da un quartiere San Michele. Per me direi conta un 7. Il vino è una passione che ho sviluppato da poco e che sto coltivando piano piano. Non è il mio primo interesse, però migliora giorno dopo giorno. La passione per il vino è nata alle superiori grazie al mio compagno di classe, il mio carissimo amico che ha una cantina qua a Verona e mi ha introdotto a questo mondo e mi ha fatto piano piano appassionare. Prima esperienza veramente forte legata al vino è stato il primo anno che sono andato qua al Vini Italy due anni fa. Grazie sempre a questo mio amico che mi ha introdotto e mi ha portato in giro, mi ha spiegato un po' vari elementi, vari piccoli interessi su questo mondo che mi ha veramente acceso una passione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!